Ragazzi ben ritrovati su Luke and Loop, sono in compagnia di Gigi, Thomas, e Vikus Buonasera ragazzi, con Luke and Loop ritorno a fare video e oggi siamo in una bella competitiva di Counter Strike Io però, oh raga io non sono in live no? E mi sento ancora strano il joystick, il mouse Lo sento in ritardo di un millisecondo, non capisco Eh non lo so Allora non è Xplit cazza Evidentemente no Che può essere? Tanto non ti ha mai dato problemi con G, eh Eh lo so però, in questi giorni si Mi ha bastato un bot, non so se si è chiamato bot oppure un bot veramente Si ragazzi ricordiamo che Gigi non sa giocare a questo gioco, l'abbiamo buttato contro i rank altissimi per lui Però è giusto per divertirsi Se volete altri giochi, altri giochi, altre partite di Counter Strike, basta dirlo nei commenti, noi ve le portiamo Esatto 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 Molte esatto Eh perché loro stanno con un bot Eh perché loro stanno con un bot Ogni volta devo registrare c'erano sempre rotture di coglioni ogni volta Eh loro sono con un bot Poi io questi giochi, queste partite non voglio nemmeno tagliarle, anche il look e il look Che taglio Ah è tutta la tirata Questo mi ha fatto jump shot, head shot e wall up Ancora 50 secondi Eppure allora è entrato eh Eh si si Eh da 3 minuti 50 è passato Ah ok si No no io mi ho avuto, perdonami Buono eh mi dicono che sto giocando bene oggi Allora Ma non riesco neanche a guidare domino con quel millesimo di secondo sbagliato Non lo devi guidare Lo devi Ammestare Non lo sbattere contro le porte, non hai capito No Quello l'abbiamo capito Quel millesimo di secondo Di ritardo le mouse È tantissimo Cioè vuol dire che il mio occhio e il mio braccio Devono calcolare quel millesimo di secondo in più E se faccio una kill sono il doppio più bravo Caspita Mamma mia Capito? Mamma mia incredibile questa cosa È il calcolo Il calcolo Occhiale Mentale Celicale A me mi dovete parlare Vai io vado in lì Ciao Gigi Come stai? Tutto bene? Gigi vi culse Non fare il pirla Io vado in lì Cosa devo comprare? Eh niente Allora Niente? No più o meno o meno no Conviene il Kevlar Kevlar Premi F3 Preso Sì bella tu Vai Seria Chi è mid? Sì seri seri Io io mid Ma tutti mid siamo E dove devo andare ragazzi Se non mi parlate Ah ah io ho detto vado b Dai vado in là con Gigi Perdonatemi se non mi parlate Giustamente Vanno in là Vanno in là Trovato In là In là Due lunga Ehi man Ehi Tre lunga Passate Frilonga Passano passano adesso Stanno passando Stanno passando Vado in lunga Uno lo spawn Eh mi hanno ammazzato Eh sono morto Uno lo spawn fermo Buono Per cui hanno un FK Ti scruto lui eh Sono tutti A Eh muoviamo Clacciacci Eccolo Vedi vedi millesimo di secondo Li sparo di fianco Porco P Nonna mia Ma che è un fucile Ma che è un fucile questo Non è la pistola Non è la pistola Long love hp Che di vita è questo Un cecchino Dai che è partita di merda Che abbiamo iniziato Ma allora vedi che in live Non è in live Allora non è il programma A questo punto E cosa può essere? Io non comprare nulla Eh si 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 Allora A questo round qua Volendo possiamo forzare E fare full echo dopo No Prendiamo la pistola Granata E andiamo in lunga Esatto Quindi è un force questo Vieni Gigi Dove devo andare Vieni Gigi Dove vedi il giallo Il viola Nella minimappa Sulla sinistra Eccole uno Eppave Sei morto? Eh si Sì Caspita Va bene Anch'io Eh vabbè Vai falli far ace I'm alone I can Yes Suicide Suicide Cazzuride È arrivato il tipo Suicide L'ha visto La vp Ma la vp è il secondo round Ok ha fatto ace Adesso facciamo un full echo Eh si perché hanno fatto tante kill Va bene va bene Adesso sai che se tu non muoiono Se vinciamo sto round Loro fanno una brutta figuretta Perché perdono A celle e lelle Compro sempre la pistola Sì sì Ma ancora lunga la partita Francesca È appena iniziata Vai vai Eh però due tre kill Dove devo andare E vieni in lunga 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 No l'ho controllato Sorry man Sorry Sorry man Ancora in A Ah lunga lunga Va bene Da dietro è forte Ma l'ho ucciso Va bene Dove Non lo so Ha ucciso a vq si lunga E a me lo stesso Ho ucciso in mid Eh occhio qua Dove sei fasullo È qui Subito Alla sul site Senti a tua destra Ma il fasullo è gg? Sì sì Eccolo gg Bravo Dietro 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 Ma manna Bravo gg Bravo gg Ma bravo cosa mi ha ammazzato Vabbè gli ha tolto uno scout Dai ora si compra e si vince gg Sei contento? Vai Sono contentissimo Attrezzatura Vai dai Vai E sono contentissimo L'amore che si viene dalla vita Mi da Vicuzzo Eh faresti una cosa per me? A voglia Mi boostereste short Boosterbbe Ma certamente Ma certamente Dov'è che devo andare io adesso? Ina Sempre lungo Vai Oh no La farai entro domani mattina Capodanno Tra quarto Ancora in A Vedi non riesco neanche a fare l'ondulamento sinistra-destra Se quel millesimo di secondo me lo fotte Mi ha ammazzato Lunga? Sì Uno è lungo Uno è spawn Ti spawn Io ne ho visto solo uno E magari girano in via Aspetta No Due Uno pit Uno lungo Morto uno Mamma Thomas Mamma mia Look me Look me Morto un altro nella smoke Uno pit Come cazzo hai fatto? Non lo so Due pit Poi questa me la spiegherà Due pit Allora vuol dire che uno è ancora lì Una è una vp Non piccate Ma è un pit? Sì Non piccate è una vp Vado in lunga Lo distraggo Vai prova Ok l'ho visto Lunga 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 Stai arrasciando Ah peccato Eh sono un coglione io Sono un coglione io Se solo Io non riesco a parare ragazzi Ho sto ritardo Non riesco Non riesco Pit 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 Non come Non come Eh ma la cosa puoi stellato dal Non lo giuro Non lo so Io l'ho convinto Fosse in live Ora invece sto registrando Non sono in live Forse è dall'USB Qua chi lo sa Non lo so Anche perché io vado Gli fps sono stabili Non largo Il live Quando vado in live è perfetto Il video anche Mamma Il fasullo ho fatto assist Cioè io quando muovo il mouse O sparo Per esempio Non è istantaneo Aspetta quel millesimo di secondo Ed è fastidiosissimo Eh caspita Non so però da cosa può essere Vai Lo vuoi la vp? Guarda come si è girato subito Dietro domani sei dietro Allora dove devo andare? Sempre a Sempre a Sempre a Ma la vp non l'hai preso? Chi? Tu A me la vp è dato Ti chiesto se la volevi Non hai detto lì Ecco Mid pusha Pusha mid Io sono arrivato troppo tardi Questa era già qua Dove l'ave la vp? In mid E uno era qua dietro le porte Short Short Passano Eccolo L'hai visto? Short 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 Vado io Ma è pushato Ok una ti spawn Ha fatto giù da dietro Ha fatto bene Una ti spawn Oh raga da ct Da ct Ma ho preso Ma da ma nessuno guardava in a Dove è che stanno? L'ultimo L'ultimo Chiama nessuno guardava in a raga Vedi Prendo la vp? Si 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 Admito Avete lasciato la bomba allo spawn Tutti e tre E state cercando a lui E vi dico solo questo Io non ho saputo che la droppa Perché il blu è in B Io sono qua Eh la bomba è mid però L'avrà potrebbe preso Avete lasciato la bomba Ecco in B Con la bomba Face bump È andato lower Probabile che fa O mid to B o short Quindi vico se qua 10 secondi Corri na Vikuts Corri na subito No 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 Vikuts Madonna Vizio del coltello È sempre lui eh Stavo correndo in a Vizio del coltello Vikuts Te lo dico tutti i giorni Quando non sai dove è il nemico Il coltello Ecco Non continuo la frase A chi lo vuole la vp? Me la immagino Lu A Vikuts Le si dicono le cose Ma non le ascolta mai Mai Poi Vikuts Non pushare Tutti i giorni live Dove era Vikuts Adesso Lo spawn loro No vabbè È andato short Ha fatto bene perché Sì ma L'avevi lasciato a vuota Io sono morto in mid Però ha fatto bene Perché almeno l'ha killato Ha preso la bomba Nessuno mid Sono qua Fuori dalle porte di lunga Sì è lunga O perlomeno quando pushate Ditelo sto pushando Ancora è fuori dalle porte di lunga Io sono in short Uno short Morto Smoky mid Infa Bomba drop Mamma mia Bomba troppo qui al porte Ce n'è un altro Qua fuori dalle porte Eh short è andato verso lunga Ok Lo so dove Lo so dove Rimango in short Ok we can go Sono in due Sono in due Guarda che short sto correndo io Sei inutile lì Uno è con la WPT spawn E uno è a destra Delle porte di lunga Ok Mid alto Short lunga È fuori dalle porte ancora 50 HP Entra nelle porte È tuo GG No Grande GG Grande 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 E l'altro è ancora lì fuori Eh guarda che prendono la bomba No no la bomba è all'interno da noi Ah ok a posto Guarda la mappa GG Sì sì Sto vedendo Eccolo Mid alto Preso Amuro Carmen C'è sentito proprio C'Cin Eh questa glielo insegnerai io l'altra volta GG adesso facciamo un bel crossfire Tu ti metti in pit E io nell'angolino Perfetto Tu me li spotti Adesso ti spiego Vieni con me è lunga Ah ho capito quale pit Dove c'è la rampa Capito che scendi giù Ti metti lì con la testa Spoti E poi quando vedi che ti escono Che ti sparano Tu ti abbassi Ed esco io E poi se sparano a me esci tu Oh io giro in B allora Che c'è il blu da solo No short short Eh il blu è da solo Ma niente c'è Luca mid Short lo guardo io Ok allora posso Flash in B B B B B B Vai facciamo Tutti B E che crappio E non è morto E' dietro E' dietro Oh lo sa Sight 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 E' dietro Cassia E' proprio dove c'è il plant Preso il no scoop raga Preso l'altro C'è l'altro dentro B Buono Ho chiudo la mid adesso Tunnel Buono ragazzi Mi ha matto lo Thomas Buono ragazzi Tieni 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 Ma porca vacca Cosa mi hai dato Cosa è sto mostro E' negative Buono ragazzi Buono Vuoi quest'altra Bravissimi ragazzi Continua ad andare ad A Oh ma io ho fatto un no scoop Incredibile Ma te neanche l'hai visto Ero dietro No mid Vai Flash lunga C'è qualcuno qui? Non credo Sto coperto Vai più indietro In modo che si vede solo la testa Ok Ok Uno mid alto B Come B Bomba in B Bomba in B Ok Occhio dal mid Ho lasciato il mid Io Vengo io mid E tu Gigi Vieni verso indietro Vai sul side Via Vado Ok sono sul side Damage Però li abbiamo arretrati in B Occhio al mid Mid 1 Mid 2 Morto Short Passati short Non ho girato Sono in A Sono in A Non vedo la bomba però Uno in A sicuramente Si copro io Oh man Gli ho fatto wallbang Vado in lunga Li sento in lunga Ma quello short è morto Quello in A è arretrato Non c'è più quello in A Morto Sicuro che è morto C'era il punto interrogativo Prima No Cazzo è l'ultimo Fuori dalla lunga Prende la vp E vai in street spawn Credo L'avevo sentito prima dietro Porca di quella pospia La bomba in B comunque Buono Grandi ragazzi Grandi Grandissime Mamma mia come siete bravi Hai visto? Si si molto molto Ha visto Se a breve mi vedete Sono in casa Ok 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 Se a breve mi vedete mutato È perché c'è occasione in casa Poi mi smuto appena possibile Fa niente Faccio sentire le casiglie L'aspiravolvere vuoi sentire? Questo è il look and loop Di tutto e di più Va bene Allora gli ordini Anche le lavatrici Farò un video sulle lavatrici Va bene Mi piace Molto interessante sarà E su depuratori dell'acqua? Vuoi quello sempre No mid T'ho messo bene così? Si a voglia Cosa ne sei tu? Vedo là il tuo puntino In lunga tranquillo Che al momento non c'è nessuno Neanche mid Occhio B Comunque ho capito Perché sono scarso Ragazzi Perché ogni tanto Mi Ogni tanto mi tira Delle mini frizzate No ma tranquilli Era solo uno Era solo uno Perlomeno Saranno fuori da B A camperare Mid è coperto Al retro Al retro Al retro Al retro Giochiamo vicini Arrivo Stai lì sul site Sono sul site Guarda gli short Dove guardarli prima Che c'era uno Io ti guardo lungo Sento la vp in B Anche fra smog Avp tunnel Raga io non riesco a morire Ma chi cazzo E' strana sta cosa Ma vuoi dire che il tappetino Porca puttana Può essere Flash Uno mid è morto Un altro mid Dove E' lì E' di fronte a te Da lì Mi ha ammazzato Esatto E' perché mi ha flashato Purtroppo Io pulisco il tappetino Ma non credo Ma come cazzo hai fatto E' l'avevo hittato prima Ah ecco Ancora short Nove secondi hanno Time 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 Block plant Block plant Vicuz di andare Non deve plantare Eh sta plantando No non ce la fa Eh no Tre secondi ce la fa Invece no Ha plantato per site Non per short Non ce la fa Ho perso anche l'arma Tutto Me l'hai data a me Perché Vicuz Per fino a tre secondi Possono plantare Quattro Io non ce la copia Non posso guardare il mid Tieni te la do io Non ce la faccio Poi si continua ad andare per di qua Sì sì Andiamo insieme Vanno lunga Perfetto Tirati se riesci GG Mid è short preso Un altro mid alto Una Eh xbox È short Sì Dex Retro anch'io Lockdown Lockdown Stai votando per espellere Steve Strap Oh oh Area 1 Da lunga È in È anche da short Merda merda Vediamo È in pit l'altro Nooo Da short Short ancora è lunga Short and long Lock short Lock long Lock Eh mi sa che è passato Io non me l'aspettavo che c'era quello short Non l'ho proprio sentito Ok avanti È invasita la bomba È invasita Hai quello che voglio ne speller Bella Ma sta guardando Ma che cazzo collina quest'altro Non so Perché si è piaciuto a girare in mezzo la mappa E poi è smoccato un posto inutile Non l'ho capito Ecco 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 Io ero dietro a questo Quanto moro Sì Vai 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 man È posto 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 Io c'ho anche casino in casa C'ho bambini a casa E' un salto all'asilo Eh che Oggi è sabato Lunga Hanno flashato e push Eccolo Eccolo Morto uno Un altro Uno ti spawn o sbaglio Uno ti spawn Sì sì A WP Dovrebbe essere morto di colpi Ah ma è un bot È morto Thomas Qua Aspetta E ne sono altri due fuori da lunga Mamma mia che mira ragazzi La porta Sono due o ti spawn Mamma che mira raga Non sbagliare Non sbagliare Fai con calma Un colpo alla volta Sei più preciso C'ho il millesimo di secondo Vabbè 75 in uno comunque Comunque non è il tappetino È lucissimo Allora è strano che non si Boh Hanno un bot Forse qualche impostazione Hanno un bot Hanno un bot Hanno un bot Ok Eh sì hanno chiccato quello lì Hanno un bot Mi dai il famas Hanno un bot Hanno un bot Sempre Ragazzi sempre Ecco Sì sì hanno un bot No compra compra Compa no Eh sì perché hanno un bot Cosa ne hanno? Un bot Fate uscire pazzo Ah ok Preso il mid Un altro mid Credo sia il bot Morto Non ha fatto in tempo a prenderlo quello Forza Forza Donde state Un altro mid Bomba c'è anche lì eh C'è la bomba Ragazzi Dove? Mid ragazzi è entrato Madonna ragazzi L'ha preso Perché sono un pirla Coglione Scemo Morto Madonna mia Due secondi prima Eh quando l'ho visto L'ho detto La bomba è mid alto Ah suicidio lì La bomba E' proprio E' mid Artbaccaglio Come si chiama? Chiesa Eccolo lì Mamma mia Sì Chiesa Buono One church One church One church with bomb E? With bomb Cerci One 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 La bomba E porta Buono 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 No problem Fa un culo Tu sta di cazzo No Ma povero No problem Ma dove sei a sei Echo E io mi ero Rush lunga Rush lunga Granatina Push long With grenade Take grenade Nade Mi ha preso il scout Ha preso lo scout Ma questo non fa mai un echo E' un coglione O chi chiama il quindicesimo round Non c'è la flash Eeeh Sono in due Tre Quanta Via Madonna L'avete chiuso L'entrata E' uscite Dove l'ora? Mamma mia Aiuto No L'ho preso in testa Due hp Long Dai Vai a morire Ma muore C'era gente E' sciolto Dove l'ho fatto? Vuole salvare? No Si lo scout Dai stai dietro Da tutte le parti erano Incredibile Sono spassi dappertutto Pazzesco Ancora echo? Si Ancora echo? Billa No no compriamo Compriamo eeeh mi boosti short ok? Mi dai quell'arma che c'hai Biglia Lukash Lukaku A posto Faccio male Bikuz Lo faccio per te Vai Uno mid Voglio 30 kill Eeeh no esageri Eeeh porte Oh varro mid Lunga eh ragazzi sono qui Ma hanno flashato in B Eeeh hanno flashato anche qua No scherzo Puscio pusho pusho Lo dico Mid lunga mid lunga Top mid lunga Cerce Morto Cerce Mid alto davanti al Cerce Sono in due Tre Sono fa un loro io One Cerce One Suicide No E' il Cerce Mi ha acceso a Cerce Che non c'ho da te chiedere Proprio l'ilu Ma si Ma fa un po' 22 Buono Prendite la bukei Abbiamo vinto un round buono Come no? La K allora No non la voglio Ma come non l'hai preso? Non la voglio E prendivi la K? Non la voglio E me la prendivi vabbè Non la voglio Ma lo volevo io Ma io bu No voglio che lo voglio Ah no Ma stai bene? Voglio Ultimo round 7 a 7 Vado in B Ciao Arrivederci Ciao Ma come vai B? Continuo Togliti Ah We're on We're on We're on We're on We're on Ah sono solo Qua è lunga? Eh si perché Ho preso il posto Lunga Ok Lunga Oh ma venire in B Che c'è La malattia Puscio Due lunga Puscio Mortu Donna Thomas C'è la calamita per i proiettili Ci hanno i tuoi avversari VQ Si io push Perché vi faccio il giro da dietro Tu che ti pusci lunga? Se sono in lunga non pusci no? Io sono in short Spawn nessuno Una mano lunga? Sono in lunga Che pensate? Mid no Lunga non li vedo Lunga Eh come no Li vedo io Sono passati però Allora Sì sono tutti qua Eh si Sono passati si Da dove? Da lunga Da dove? Oh Ma tutti li ho itati Ma come? Come fa? L'ultimo Dai Da short Guarda sul ciglio Guarda sul ciglio Vai 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 Mito Grande 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 Bene così E qui torniamo al discorso di prima Se c'è il millesimo di secondo di ritardo È tutta bravura questa Guarda sono pure primo a quel millesimo di secondo di ritardo Capisci questa cosa? Il mio cervello deve calcolare quel millesimo di secondo Togliere Sottrarlo Fare la divisione In pixel È un macello eh Due o tre moltiplicazioni Tipo comprare qualcosa Il giubbotto Tipo È una flash Ok che non so sparare Però vabbè Tutti fermi perché? La bomba è ferma Tutti fermi La bomba è ferma Buono La camo a una nuova È dentro da solo adesso io Fai meno Fai meno Siamo in tre Siamo in tre Lo clou O aggant Lo clou Preso Dai dentro 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 Uno è fuori dalle porte Buono Un altro c'è ne porto È mid Piattate sta bomba cazzo C'è lui Watermelon Fuori dalle porte Uno è fuori dalle porte Uno è ti spawn No ci ti spawn Uno si sti Scusami Per l'altra volta Bezzo di merda Ragà la tunnel Porco il pippo Dai 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 Che li stiamo distrugeschio Scusami No io ce la stavo pensando Ma dove mamma Dove game be Fast fast be Mid to be Mid to be Mid to be Ok Non mid Not mid Mid to be Guys shut up man Please Ok B ok Dai andiamo a B ancora Vai 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 To B Flash o tu entra verde Entra verde Entra verde Entra verde Grazie Io ce ne ho entrati Io l'ho detto Non andiamo a B però Ammazzato il fasullo Vai vai planta No una porta Window Window E' forte Planta Go B Go B Go B E sto coglione Dai na Ma ti rendi conto Ma doveva ancora ascoltare Le tattiche di sta faccia di merda Cioè io ho detto Mid to be E il round era vinto Era in vantaggio No Andiamo a B Andiamo a B E sto coglione Se ne vai na Posso comprare I kick you Facci le merda I kick you Ragazzi parlate con me No 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 siamo in eco Come compari sto coglione Va bene va bene Ho preso la pistola Con la G si lancia Perché non posso tenerla io la bomba Si però volevo la pistola Voleva la pistola Eh ma se te la do io adesso Non la puoi comprare Magari push Aspettiamo No si che è entrato Eh io ho lasciato Oh sto botti di merda Che non muore Ho uno scout E non ho paura di usarlo Via via Ho preso un'arma Via Ok uno qui a porte Porta di mid Dove Non c'è andare Non c'è andare con la bomba Non sono andato Non volevo andare La bomba Mi è venuto a prendere lui A mid L'ho perso io Morto uno Venite verso B veloci Mi ho hittato uno a spawn La bomba è mid La bomba è mid Ve l'ho detto che la bomba è mid Andiamo a prenderla C'è un'arma Non è problema Si c'ho la k Ok qua dietro Dietro questo angolo A mid A mid Lì Quello è l'angolo lì Ecco l'avevista l'ombra A destra Questo? Destra destra No no Quello è l'angolo Lì 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 Dietro il muro Oh nice Scusate per dire Se ho perso la bomba Ecco mi vedi Sono morto lì Ero quel cadavere La terra Andiamo in lunga Vai Vai Posso acquistare? Si si Non è che puoi Devi adesso E' un obbligo Si bella tu Con quei capelli neri Che tu hai Con quel visino dolce Come sei Povero gabbiano Va andiamo Andiamo C'è un altro Un altro Veloce Veloce Ma ragazzi Ma ragazzi Ma perché non si è spenta Sta cosa Io sono uscito Per colpa di quella cosa Che bruciavo Arriva 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 da lunga Porta Morto quello di qua L'ho anche L'ho preso il test Vabbè And Brad Pitt And Pitt Pitt Vikkuc la bomba O arretri Oh vai Decidi Eh qui c'è uno A sinistra Andate Prendolo insieme Eh beh lo sacramentiamo Prendiamolo di pallotto A sinistra Anciti Oh è sempre il coltello Ma l'avessi sparato una volta Vikkuc muore sempre Alla stessa madre Lo portando in mano Se tenevi l'arma in mano Chi lavi anche quello Però se mi osservi Mi agito Io mi emoziono Ma va a cagare L'hai visto L'hai visto Dai vai Montino Dai amico Che ti vuoi prendere un caffè? Spostati con Citi Dai la dita a sinistra Sale sul muretto a destra Lo prendi Dai Edo c'è tu fai assicurato Ma non qua Di fare il cornicione Faccio rapirla Quel cornicione a destra Dove cazzo vai? Time Digli go on the cornicials Clutch or kick Oh come ha fatto a non prenderlo Se saliva sul cornicione Quello era morto E dove si muore lui Guarda Time man Save please Vabbè Save uno contro uno Sa dov'è Ma what do you do? What do you do? What do you do? One vs one One vs one And you Say and on the stars Nemic What the fuck Don't play the vp please Se lo facevamo avanzare Moriva perché quello aveva un p90 Damn e vp a me Damn e vp a me Please Thank you No 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 vp a me Please man No Ok ok I kill you No 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 Perché dobbiamo litigare Madonna Vabbico lo kill E' la fai fallo cacare sotto Andiamo Libby Libby andiamo in A No No Mittenhouse Capè Uno morto Devi aspettare gli altri Aspetta che avanzano loro E poi tu avanzi Silenzio Car CT Non si scappa da qua No Cerca di uscire piano piano Però devi stare attento a quello di car Adesso veloce Vai veloce Salta qua salta E' visto Dov'è Bravo Bravi Bravi E' visto perché Quelli pensavano che andavate da short No lo scout Posso acquistare Vai Bene Ora andiamo in B Facciamo mid to B Ho tutto Vai mid to B Ho tutto Mid to B Mid to B Not Mid to B E quello è andata No Voi li metto le vanno addosso Subi Nego B E' go E' go E' What Ma come cazzo Guarda Cos'è C Non vi facciate Aspettate Lancio tutto Lancio tutto Andiamo Andiamo Raga Maraventubino I cazzo siete Andiamo Io sono in tunnel Ci puoi Da dietro Una entrata in tunnel Bravo Prendi la mia Dai dai Veloci Dov'è Box Dov'è L'ultimo Plant 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 Chetabibo Oh Thomas Quale rabbia A morì Dov'è è mid scuro mid 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 ct 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 ma è un insulto? si l'ho visto l'ha visto lui capito? dove cazzo l'hai visto? Vikuz è la merda avevo detto che era mid ma aveva lanciato una granata non dare informazioni sbagliate però Vikuz no ti giuro ho visto una cosa di nero che si muoveva madonna è pure di fantasmi di quest'altro ma anche ieri eh tutte le informazioni sbagliate all short, all rush short chi smocca il mid? vi smocco short 2b niente una mid ma che cazzo fa quello? dai dai che imbeccano no avevo flashato tanto ho smoccato all site vai uno ct dai morto andiamo dai 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 plant 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 i partitori che sto facendo raga morto mid occhio short morto mid ed go short go short è short? ha detto cosi lui short mid ditelo che pushate è short è short certo cerco di prenderlo da dietro arista grandi ragazzi dai solo tre round mancano solo tre round oh mamma round e adesso ho io la bomba vado in live si vado in live vado in lunga con la vp tre vp siamo siamo tre vp ti dico noi gg però non vi faccia non entrate in lunga che lanciano le granate aspettate io ho la bomba e aspetta lo sto dietro fate lanciare tutto poi entriamo noi 1 mid passato b non entrate 2b ecco vai vai entrate via 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 occhio a pittor occhio a bled bled pittor non c'è è la è la è lunga brava brava bravo giovanna mi hai coperto il deretano bravo no l'ho ciccata è lì eh occhia occhia aperta 2 ct 2 ct bravo l'ho presa ect ect bravo bravo è morto arriva a plantare arrivo bravi bravi ho fatto un casino ho tutto il beccato l'ho plantato ce l'ho fatto ancora gg hai visto che si aspettavi se entravi morivi col piedino bruciato eh hai visto come ascolto però lì ha buttato l'accendino per terra ha fatto come un casino ho ascoltato tutto eh grande non fare come vikuz dai che ti pareva vikuz non pushare se non ti spawn ma questo si crede ancora di dare direttive si si andate e b raga è lunga potrete uscire uscite la lunga uscite occhi in pitta pitta pulita occhi a car occhi a car andate voi è site è lì è macchina è su una destra è su una destra da dietro dai parmontino facci vedere ditelo che mi decidi one pit one pit one pit one pit one more bravo one pit a mort è destra pit ma sei sicuro che c'è pit io non l'ho visto si si c'è c'è sai che cammina io non l'ho visto chi ne ti piace ma a salvare potrebbe deve far vedere che forte no farà pof o muore oh one side one long ma in short una pierda fantastica oh my god no problem you are very pro sorry sorry oh poverino no non c'ho il kevlar adesso mi fa noiaiai B dai andiamo B va bene push B push B push B e quello vai nella guarda ma non vai na vai middle c'è il cecchino lascio la bomba qua eh raga prendo la bomba e la lascio più avanti la prendi tu? ok la lascio qua va bene io la lascio qua where 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 sono dentro b entra entra arriva arriva un alle porte alle fattorie a me non me ne frega un cazzo e planto non vedo niente tu vai plant e basta guardo buco ho 16 hp ho plantato ho plantato ho mittato da solo 1 mid 2 mid ho visto 1 double dog noo facevo la collaterale 2 mid c'è un 1 mid i'm coming si si qua madonna 1 low what mit mit nice grande thomas avevo fatto una cagata con me nice oh buono 15 10 top tieni la vp non compra niente ho una vp push in b con la vp andiamo oh il nostro ha scritto easy game tutto lui ha fatto si infatti si ha provato tra le tattiche abbiamo perso l'altro ha rosicato ok due bot hanno entra vikuz ha pusciato ma perchè si è dato girato vikuz è perchè hai lanciato la flash ma mezz'ora prima ho lanciato nella smog io e nella smog e nella smog e da dietro ma non è da dietro ma questo volante sto by scout stop play with noi no solo video ras facciamo un po tenete io non ho fatto ecco perché sono un coglione volevo usare il pp guyson dove andiamo? in bb pushate in b va bene più vado in mid hanno due botte e bravo vai a fare le kill facili no no mica se li togliamo i botte non li prendono pirla uno push e sono morto morto sono entrato in b no volevo l'uccisi e hanno hanno pushato in b no no vedi qua donna mia oltre la pipì corro 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 ho tre pipì veloci planta 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 cosa spai? li uccido tutti sono credo tutti i saluti sono già morti non so come dista no non sai prova bravi ragazzi easy dai siamo stati bravi in quei prima partita dopo tanto tempo ho un partitone è uscito fuori proprio dsto video eh che ne pensate non male dai ci siamo divertiti ragazzi grazie di tutti che ci faccio BIZI tanti altri video arriveranno tanti like tante condivisioni e scrivete nei commenti Chi è arrivato alla fine della partita E il principe Così a caso Ciao 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 ragazzi